Sono emerse criticità al margine di un incontro avvenuto ieri tra i pendolari della linea storica di Nocera Inferiore. Dieci anni fa cadeva un muro di contenimento a portici che portò all'interruzione della linea ferroviaria per 14 mesi. Qui ci sono tutti i presupposti poiché a crollare non è un muro ma un costone roccioso al di sopra del quale vi è un'abitazione abbandonata. Sono passati 20 giorni dall'evento franoso e nessun atto amministrativo ha dato l'avvio ai lavori. Ieri ci siamo visti per affilare le armi. Abbiamo bisogno di un cronoprogramma dei lavori altrimenti presto scenderemo in campo con un flash mob. È il disagio emerso al margine di un incontro da parte del gruppo pendolari linea storica di Nocera Inferiore. È stato un incontro costruttivo e organizzativo. La preoccupazione da parte dei membri del comitato è dover lottare per ottenere servizi minimi di sopravvivenza e non tornare alle battaglie di un tempo. I disagi registrati sono enormi. Non solo le tratte Nocera Superiore, Cava dei di Reni-Salerno, ma Trinitalia ha cancellato un'intera tratta. Napoli-Campi-Flegrei. Ieri sera ci siamo riuniti come gruppo pendolari di Nocera Inferiore semplicemente per affilare le armi. Perché vogliamo sapere dalla Regione Campania, Trinitalia-RFI e Prefettura di Salerno, dall'incontro che si ferà il 9, vogliamo avere un cronoprogramma preciso dell'inizio lavori, i lavori da realizzarsi e il fine lavori. E soprattutto chiediamo immediatamente il ripristino di tutti i treni tra Napoli-Campi-Flegrei e Salerno. Perché i treni arrivati a Nocera Inferiore possono andare via Galleria. Perché questa settimana sono stati cancellati numerosi treni. Noi avevamo quasi due treni per Napoli, un treno ogni mezz'ora, quindi due ogni ora e tre per Salerno ogni ora. Adesso abbiamo anche buchi di due ore, il che sta creando disagi anche a chi si dirige a nord di Nocera Inferiore, quindi verso Napoli. Perché sopprimente un treno poi non trovi il ritorno da Napoli. Quindi si stanno affollando non solo i bus sostitutivi per Salerno, ma anche i bus provenienti da Napoli. Quindi siamo stanchi di subire questi disagi. Questo crea enormi disagi per chi lavora su Napoli a nord di Nocera Inferiore. Prima i pendolari potevano godere di tre treni l'ora, mentre ora ci sono attese anche di due ore. E mentre chi da Salerno ha la speranza di prendere un pullman, rischiando anche di finire fuori per esubero, sfiorando vere e proprie risse, in particolare al mattino presto e nelle ore di punta, chi da Napoli deve tornare verso sud ha enormi disagi per ore interminabili. Noi temiamo che questo disagio possa protarsi per lungo tempo. Nell'attesa che avvenga la riunione in prefettura, il Comitato chiede un cronoprogramma di inizio e fine lavori. Se questo non succederà, noi scenderemo letteralmente sui binari.